Benvenuti, benvenuti alla diretta di oggi di Stampa Evangelo. Siamo arrivati a giovedì 19 di aprile del 2017. Ringrazio per l'ascolto straordinario di questi giorni. Abbiamo incrociato quasi 12.000 persone in due puntate post settimana di silenzio. Grazie davvero a tutti coloro che seguono questo appuntamento con interesse. Grazie ai primi che si sono collegati, Massimiliano Esposito, Giovanna Arminio, Lorenzo Casi che mi accoglie con un grande forza Juve, che straordinaria Juventus. Ieri al Camp Nou saluto Antonella Bagno, Monica Fornari, Milena Brindisi-Trabona, Danilo Bassan, gli amici di Padova, con cui ieri abbiamo completato anche la presenza in Veneto del popolo e della famiglia. Oltre a Conegliano, oltre a Verona, saremo presenti anche a Padova. Saluto a Anna Esaurita Ecelli, Manuela Miraglia, Meri Rossi, Claudio Amato, Vladimiro Campello, Giovanni Pecola. Siamo già in moltissimi. Vi ringrazio molto per la connessione mattutina. mattutina presto, diciamo così, e vi chiedo, come dice Giovanna Arminio, un mi piace e un condividi per far seguire la diretta a più persone possibili. in questo giorno importante, vedo arrivare anche Franco Becchis, il vice direttore di Libero, saluto Vittoria Polacci, Miriam Mircoli, Elena Taddei, Giovanni Fiori, Fabio Freddi, Don Francesco Morcavallo, Santa Giornata e Forza Juve. dire proprio di sì, insomma, ci siamo svegliati con questa stapore di vittoria e Franco Cutruneo, un po' di misericordia per me, interista, saluto Moreno Lovat, Angela Ciconte, Jacopo Melio, Silvia Lodà, Diana Di Donato. Allora, ci siamo, andiamo a leggere la pagina del Vangelo di oggi, siamo nell'avvangelo di Luca, nell'episodio dei discepoli di Emmaus, di cui abbiamo già parlato ieri. in quel tempo, di ritorno da Emmaus, i due discepoli riferirono ciò che era accaduto lungo la via e come avevano riconosciuto Gesù nello spezzare il pane. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona apparve in mezzo a loro e disse pace a voi. Stupiti e spaventati, credevano di vedere un fantasma, ma egli disse, perché siete turbati e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io, toccatemi e guardate, un fantasma non ha carne e ossa come vedete che io ho. Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi, ma poiché per la grande gioia ancora non credevano ed erano stupefatti, disse, avete qui qualche cosa da mangiare? Gli offrirono una porzione di pesce arrostito ed egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse, sì, sono queste le parole che vi dicevo quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Allora aprì loro la mente all'intelligenza delle scritture e disse, così sta scritto, il Cristo dovrà patire e risuscitare dai morti il terzo giorno e nel suo nome saranno predicati a tutte le genti la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. È la parola del Signore di oggi, è il Vangelo di oggi, è davvero il Vangelo fondamentale dell'ottava di Pasqua, in cui si dicono queste parole. Voi siete testimoni. L'incontro con Cristo non è un incontro ideologico, non è neanche un incontro meramente spirituale. È un incontro fisico con una persona la cui verità storica è tramandata dalla testimonianza di chi ha visto. E noi siamo qui a testimoniare verità, come testimoniano verità gli scritti dei Vangeli che leggiamo al mattino come buona notizia per illuminare la nostra giornata, una nostra giornata sempre piena di elementi complessi. Per esempio questo Marco dell'Andrea che scrive in questo momento «Speriamo in una tua lenta agonia con molta sofferenza, quella neurologica già da segnali». Questo riferimento di Marco dell'Andrea evidentemente è per la nostra battaglia contro la legge sul cosiddetto testamento biologico. «Una legge che ieri ha fatto dei passi avanti alla Camera, una legge che persino dei deputati del Partito Democratico, che è il partito che sta portando avanti questa legge, che io conosco bene, essendo stato anch'io parlamentare del Partito Democratico, persino dei parlamentari del Partito Democratico hanno definito una legge peggiore rispetto alla legge sulla cosiddetta eutanasia attiva presente in alcuni paesi d'Europa, Belgio, Orlando e Lussemburgo». Perché si dice persino peggiore? Perché è più ipocrita. Mentre in Olanda, Belgio e Lussemburgo si uccidono i pazienti usando il pentobarbital, cioè questo barbiturico per cavalli che viene iniettato nelle vene dei poveri sfortunati, dopo avergli dato un antiemetico perché il pentobarbital causerebbe immediatamente il vomito da parte dell'essere umano, così in Italia invece si decide di non passare attraverso questo gesto che sarebbe troppo violento, si decide di uccidere i pazienti per disidratazione e togliendo loro il nutrimento, cioè per fame e sete. La legge sul cosiddetto testamento biologico è, da questo punto di vista, come dice Giuseppe Fioroni, deputato del Partito Democratico e in passato anche importante esponente del Ministero della Sanità, è una legge ipochita, peggiore della legge sull'eutanasia. Viene intervistato anche il medico del Papa che lavora al Policlinico Gemelli e dice se questa è la nuova medicina, c'è un'intervista sul Cogliere della Sera, la nuova medicina non fa per me, diciamo così, e si proclama obiettore di coscienza. È una legge terribile quella che stanno approvando, hanno ragione i deputati del Partito Democratico, peggiore della legge sull'eutanasia. Per la verità il grande, grosso corpaccione del Partito Democratico, come al solito, con grande conformismo, vota a favore di questa legge, e anzi è promotore di questa legge. Qual è la forza politica determinante per l'approvazione di questa legge? La forza politica determinante è il Movimento 5 Stelle. Quel Movimento 5 Stelle che ieri ha avuto lo srotolamento del tappeto rosso da parte del direttore di Avvenire, Marco Tarquinio, che ha pensato proprio bene il timing con cui fare l'apertura a Beppe Grillo. Il timing è stato quello del giorno in cui Grillo si è dimostrato forza determinante per l'approvazione della legge sul fine vita. Approvazione che arriverà alla Camera nei prossimi giorni e poi la legge, per fortuna, dovrà andare al Senato dove i numeri sono un po' più ballerini e dunque si potrà lavorare per evitare che una pessima legge ricalcata in maniera ipocrita ricalcata in maniera ipocrita su un dettame dell'ordinamento giuridico nord-europeo venga inserito nel nostro ordinamento giuridico che è estremamente più avanzato rispetto agli ordinamenti giuridici nord-europei. La civiltà giuridica è nell'ordinamento giuridico italiano che tutela i pazienti non nell'ordinamento giuridico che vogliono introdurre e che uccide i pazienti per fame e sete per copiare in maniera ipocrita i meccanismi eutanasici del nord-europeo. Mettiamocelo in testa quando vi dicono l'Italia è arretrata voi siete bigotti e medievali il nostro medioevo era molto avanti rispetto agli ordinamenti giuridici nord-europei che vogliono sopprimere i deboli scimmiottare quegli ordinamenti giuridici che vogliono avere l'aborto fino a casi estremi il matrimonio a tre o a quattro al milioni civili a cinque sei genitori per patto notarile che vogliono stravolgere la famiglia che vogliono uccidere le persone deboli sono ordinamenti giuridici regressivi e barbarici mentre il nostro ordinamento giuridico che fonda la famiglia con l'articolo 29 della Costituzione con la Repubblica riconosce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio e che è la famiglia come baluardo e che infatti tutela al suo interno i più deboli è l'ordinamento giuridico che da millenni da millenni sopravanza la barbarie dell'ordinamento giuridico nord-europeo quindi scimmiottare l'ordinamento giuridico dei barbari è una follia una follia di persone che non hanno cultura giuridica che hanno una cultura politica di medio e basso livello come quelli del Movimento 5 Stelle e folle è chi ha srotolato il tappeto rosso davanti a Beppe Grillo offrendo l'intervista a tutta pagina allo stesso Grillo e fornendo addirittura una legittimazione con l'intervista di una pagina su quella sera affermando che i cattolici hanno tre quarti dei temi in sintonia con i 5 Stelle quali sono Marco D'Arquino i tre quarti dei temi? il testamento biologico le disposizioni le anticipate di trattamento l'aborto l'obiezione di coscienza dei medici il matrimonio gay il matrimonio interspecie la droga libera allora questa è l'apertura secondo cui il Movimento 5 Stelle avrebbe i tre quarti dei temi a favore identici alle posizioni dei cattolici quando gli chiedono una spiegazione tra cui uno dice la lotta alla povertà mi raccontate un partito politico che ha nel suo programma l'aumento della povertà allora queste sono follie banalità ingenuità vorrei sperare semplici stupidaggini o forse davvero qualcosa su cui ora bisogna fare chiarezza e chiedere chiarezza con nettezza alla Chiesa italiana ieri sera Gianmarco D'Arquini è stato costretto a una mezza marcia indietro ha dovuto affermare che le sue affermazioni erano di natura personale c'è una grande per fortuna finalmente una grande fibrillazione nel mondo cattolico ora è il momento di dire con chiarezza che certe furberie certi servilismi certi opportunismi certi banderuolismi davvero non si sopportano più ora bisogna stare con Cristo o con quelli che dicono che c'è l'autodeterminazione su tutto e Grillo ha l'impudenza di andare sulle pagine di avvenire e dire che c'è prima di tutto l'autodeterminazione perché loro sono posti ideologici allora o con Cristo e con la testimonianza della verità o con l'autodeterminazione ricordando che la libertà è niente senza la verità esiste la libertà se c'è la verità la libertà non è autodeterminazione è esattamente il contrario di quello che ha fatto dichiarare senza contestazione avvenire a Beppe Grillo sul suo giornale questo passaggio è davvero intollerabile il popolo e la famiglia è impegnato come sapete in una battaglia su tutti i territori nazionali vengo dalla presentazione del candidato sindaco di Conegliano vengo dal lavoro che abbiamo fatto su Padova stiamo facendo un importante lavoro in Emilia Romagna su Riolo su Correggio su Parma sarò dopo domani in campagna per la presentazione delle liste campane stiamo lavorando su Genova su Alessandria su Borgo Manero stiamo lavorando a Monza a Crema stiamo lavorando davvero in tutta Italia per portare avanti una consapevolezza che è quella che dice Livio De Petri che è la verità che ci farà liberi non è l'autodeterminazione terzium non datur abbiamo scritto oggi sull'editorialino del quotidiano La Croce leggete il quotidiano La Croce piuttosto che avvenire va diventate abbonati e lettori quotidiani del quotidiano La Croce dove oggi abbiamo spiegato che il Movimento 5 Stelle è stato talmente imputente che sull'obiezione di coscienza per i medici dove persino il PD si è vergognato di votare contro l'obiezione di coscienza ebbene il Movimento 5 Stelle ha votato contro l'obiezione di coscienza per i medici contro persino il PD l'ha si è vergognato e che facciamo? Nel giorno stesso gli srotoliamo il tappeto rosso dicendo che su tre quarti dei temi i cattolici la pensano come il 5 Stelle ora davvero Anna Russo dice si può avere un contatto scrivete m.tarquinio chiocciola avvenire.it m.tarquinio chiocciola avvenire.it e scrivete perché non scrivi mai una riga su quello che fa il popolo e la famiglia tutti i giorni su tutti i territori battendosi in questa campagna elettorale non è stata scritta una riga da avvenire e srotoli invece il tappeto rosso al Movimento 5 Stelle scrivetelo m.tarquinio chiocciola avvenire.it perché censuri l'attività del popolo e la famiglia su tutti i territori nonostante ci sono sondaggi che danno a crema il popolo e la famiglia al 9% a Verona il popolo e la famiglia al 15,5% perché non hai citato la decisione di candidarmi a sindaco di Ventotene per una nuova Europa fondata sul diritto universale a nascere contro l'aborto contro l'aborto contro l'aborto l'Europa necrofila dell'aborto indiscriminato e dell'eutanasia e per una nuova Europa fondata sulla famiglia e sul diritto universale a nascere m.tarquinio chiocciola avvenire.it abbiamo proclamato questo manifesto di Ventotene della nuova Europa il 23 sarà a Ventotene fino al 25 per l'avvio della nostra campagna elettorale su quel territorio qui dice Ninnarello pure quando il Movimento 5 Stelle gli leva i soldi alla scuola la cei sono contenti esattamente perché sono stati tolti i soldi da Chiara Appendino sindaco di Torino alla scuola cattolica saluto Maria Marrosu saluto Melania Simoni che racconta fuoco amico da quattro anni a questa parte lo subisco da quattro anni da quando è uscito voglio la mamma Orietta Secoloni c'è una vergogna scriverò sicuramente saluto Francesca Marzoli saluto Gloria Gallarelli basta politiche di morte Elena Di Pietro mi piace sono molte le donne che scrivono in questa diretta di Stampe Vangelo e che spero vogliano scrivere da donne la loro indignazione per un Movimento 5 Stelle abortista per un Movimento 5 Stelle antifemminile che ha sostenuto le adozioni gay che ha negato il diritto del bambino avere una mamma Danilo Bassan dice potremmo anche avere il 95% di punti in comune tra cattolici e il Movimento 5 Stelle ma quel 5% mancante è fondamentale non c'è neanche il 95% il Movimento 5 Stelle è un movimento profondamente avaloriale avaloriale c'è una distanza siderale tra il Movimento 5 Stelle e chi ritiene che invece la libertà esista solo se si affianca alla verità saluto Maria Pia di Girolamo ecco Silvia Lucchetti Giuseppe Bonanno fate sentire questa voce e fatelo con un mi piace un condividi alla diretta di oggi è importantissimo che oggi facciamo sentire la nostra voce nel giorno in cui forse qualcuno ha scoperto che questa coincidenza di tempi tra Tarquinio avvenire la cieca aprono 5 Stelle e 5 Stelle che in Parlamento vota platealmente contro qualsiasi valore non solo cristiano ma anche umano stabilendo che i malati si possono uccidere per fame e per sete e negando persino l'obiezione di coscienza ai medici cattolici beh tutto questo chiarisce che davvero nessuna sintonia può esserci neanche lontanamente tra il movimento di Beppe Grillo e chi professa una fede e crede ripeto che la libertà esista insieme alla verità alla regione Umbria come dice Claudia Catea giustamente la legge sul gender nelle scuole sull'omofobia approvata dieci giorni fa è passata col voto decisivo del movimento 5 Stelle che mai in regione Umbria aveva votato con il PD ha scelto il territorio del gender e della cosiddetta lotta all'omofobia per votare per la prima volta la legge insieme al PD quindi chiarendo quali sono le priorità per il movimento 5 Stelle allora noi dobbiamo assolutamente battere come dice Antonio Vincenzo Rù questi nichilisti è fondamentale è un elemento fondamentale nella nostra battaglia politica siamo radicalmente alternativi come popolo e famiglia al movimento 5 Stelle nessuna intesa sarà mai possibile con un movimento avaloriale e nichilista e invitiamo caldamente tutti a scrivere a Marco Tarquino a scrivere ad avvenire a dire come vi permettete di continuare a silenziare il popolo e la famiglia e a dare invece questo spazio incredibile a un movimento platealmente estremamente schierato contro la Chiesa e contro i valori di chi crede saluto Ciro Brescia saluto Paolo Ruotolo ancora più scandaloso è chi ha permesso a Tarquino di pubblicare quell'articolo Massimiliano Esposito segnala i nostri 26 punti di orientamento programmatico a chi ci richiedeva evidentemente mi sono perso qualche commento saluto Carlo Principe signori è un momento decisivo questo l'11 giugno si va a votare e credo che l'11 giugno si scoprirà saluto anche Giuseppe Brienza si scoprirà che il popolo e la famiglia è in forte crescita nei consensi nonostante lo ripeto la mordacchia e il silenzio assoluto dei media cattolici in particolare di avvenire ma noi con insistenza caparbietà continuiamo a far sentire la nostra voce su tutto il territorio nazionale a muoverci con grande diciamo così agilità nonostante diciamo così le forme per toccare tutto il territorio nazionale anche ieri Gianfranco Amato era in provincia di Venezia Nicola Di Matteo continua a lavorare sul territorio siciliano perché siamo presenti anche alle amministrative in Sicilia Mirco De Carli in Emilia Romagna sta facendo un lavoro straordinario stiamo lavorando per presentarci Raffaelea Di Norfi in campagna per presentarci su tutto il territorio nazionale con le forze del movimento del popolo della famiglia ora serve però far sapere i nostri strumenti sono questi i nostri strumenti sono questi far sapere che c'è una presenza radicalmente alternativa radicalmente alternativa a quella del movimento 5 stelle sulla scheda elettorale Andrea Sergio Francesco chiede Milano Milano ti puoi sentire con Emanuela Pongiluppi del nostro coordinamento editoriale che cura il radicamento del popolo della famiglia a Milano Saluto Giuseppe Martini Elena Di Pietro dice cosa faranno i sacerdoti quando saranno obbligati a non dire più la verità del Vangelo ricordiamo che pagheremo caro il silenzio Carla Stefanini Giuseppe Brienza scrive andiamo avanti con umiltà ma decisione senza il popolo la famiglia l'Italia moralmente tracolla Silvia Lodà dice Michael i temi etici per un cattolico sono il centro di tutto ma noi accompagniamo all'etica ai valori al manifesto di Ventotene per esempio nuovo manifesto fondato sul diritto universale a nascere e sulla centralità della famiglia abbiamo anche le proposte concrete per rilanciare economicamente questo paese vuol dire mettere più soldi in tasca alla famiglia abbiamo scelto Ventotene perché a Ventotene un coraggioso commissario prefettizio che sta svolgendo ora le funzioni del sindaco perché il consiglio comunale è stato sciolto ha avvarato una sorta di reddito di maternità proprio sulle indicazioni del popolo e della famiglia per tre anni 160 euro al mese alle mamme di Ventotene noi vogliamo andare a Ventotene anche per triplicare quell'importo e raddoppiare il periodo cioè andare a sei anni con 500 euro al mese questo è un obiettivo concreto materiale mettere più soldi in tasca alla famiglia significa dal nostro punto di vista sostenere la famiglia ma prima ci deve essere anche un discorso valoriale perché se lo fai meramente sul piano economico non coltivi non crei le condizioni reali per la rinascita del paese sulla natalità sui figli nella battaglia contro l'aborto per tornare a avere un saldo nati morti che sia decente Andrea Michele l'osservatore romano che dice ieri contro Tarquino si è addirittura schierata famiglia cristiana che insomma udite udite insomma no persino famiglia cristiana e ovviamente noi sulla croce ieri oggi sul giornale di oggi trovate la nostra condanna della scelta di Marco Tarquino qui c'è Melania Simoni il popolo la famiglia comincia a far paura e oggi non arrivano neanche i troll consueti è arrivato uno a insultare all'inizio chiedendo la mia morte lenta secondo una lenta agonia a parte questo poco altro e noi ringraziamo diciamo così la modestia dei troll di oggi evidentemente stanno ascoltando qualcosa che può anche loro interessare tra l'altro le prime pagine dei giornali oggi segnalano questa novità c'è una prima pagina che accogliamo la verità che non mi piace molto dice prove di alleanza Bergoglio Grillo non credo che questa roba sia ispirata da Bergoglio francamente che è totalmente disinteressato Papa Francesco alla dimensione italiana della politica italiana Maurizio Belpieto secondo me non c'entra il bersaglio certo è divertente che certi amici che ci rimproveravano di essere contro Papa Francesco oggi hanno il loro giornale di riferimento che attacca platealmente Papa Francesco questo lo segnalo a qualche amico che diceva che il popolo della famiglia è contro Papa Francesco sul libero vescovi e grillo fidanzati ecco qui il titolo mi sembra un po' più centrato la questione è un segmento della conferenza episcopale italiana che evidentemente ha legittimato la mossa di Tarquinio che Tarquinio mai e poi mai avrebbe fatto senza la copertura ecclesiastica sappiatelo bene anche se adesso dice che la sua è stata solo una cosa personale è chiarissimo che l'ha fatto solo in presenza di una copertura ecclesiastica Paolo Ruoto lo segnala giustamente che in Italia sono 7,2 milioni di poveri mentre l'avvenire si occupa di grillo erano arrivati questi questi dati appunto dell'Istat sulla povertà Luigi Milanesi dice vuoi dire qualcosa sulle dat cioè sulle disposizioni anticipate di trattamento ho detto molto mi sembra considero la legge sulle dat cioè la legge sul Biotestamento una legge offensiva offensiva è una legge offensiva per l'intelligenza la propone chiamare legge sull'eutanasia ed è una legge sull'eutanasia i pochi dall'italiana che uccide per fame e per sede cioè con disidratazione e stop al nutrimento del paziente quando nel resto d'Europa dove c'è l'eutanasia uccidono col pento barbitalla ora tra poco diranno che è più umano uccidere col pento barbitalla quindi siamo esattamente dentro quella condizione quella legge è semplicemente oscena oscena tra l'altro l'emendamento che voleva salvare le cliniche cattoliche dall'obbligo di dover applicare quella legge è stata bocciata con appena 82 voti favorevoli bocciata ovviamente dall'asse tra PD e Movimento 5 Stelle ripetiamolo PD e Movimento 5 Stelle e anche l'emendamento sull'obiezione di coscienza dei singoli medici è stato approvato sì grazie al voto del PD ma il Movimento 5 Stelle anche su quello ha votato contro Raffaella di Nolfi mi telefona mentre sto in diretta stampa e vangelo e dovrebbe saperlo quindi spero che qualcuno gli comunichi che in questo momento sono in diretta stampa e vangelo e non posso rispondere alle sue telefonate la croce come dice Giuseppe Brienz apre oggi col titolo Biotestamento Movimento 5 Stelle decisivo e che lo sia l'unico titolo che spiega quello che sta accadendo anche per spiegare a coloro che sono stati turbati dalla posizione di Marco Tarquini di avvenire quanto grave sia stata quella presa di posizione proprio nel giorno in cui i grillini diventavano fondamentali per l'approvazione della legge oscena contro l'uomo oscena contro l'uomo lo ripeto neanche dal punto di vista cristiano dal punto di vista umano ma si può uccidere per fame e per sete siate più seri siate più coraggiosi mettete il pento barbital dentro questa legge allora bisogna essere chiari da questo punto di vista non bisogna scegliere la strada dell'opportunismo oggi Vittorio Feltri fa un editoriale dicendo la chiesa è opportunista per tradizione l'ho pensato anch'io che sono stati segmenti della storia della chiesa in cui l'opportunismo è stato caratterizzante non dobbiamo farlo pensare al mondo cavolo non dobbiamo farlo pensare al mondo in questo frangente qui non serve davvero non serve perché che bisogno c'è di fare questo lavoro di servilismo nei confronti dei possibili nuovi potenti di domani pensate che vi tratteranno con più grazia perché vi siete fatti pecore chi pecora si fa il lupo se lo mangia e questo è il lupo questo non è grillo è il lupo attenzione chi pecora si fa il lupo se lo mangia andare a prendere per il pelo questo tipo di movimento significa non capire questo tipo di movimento da quale movimento ideologico è mosso e basta vedere le amministrazioni comunali basta vederli votare in Parlamento come si fa a non capire ma bisogna essere veramente sciocchi bisogna contrastarli questi movimenti i movimenti contro la vita contro la famiglia vanno contrastati vengono a Conegliano dove la delibera sull'ideologia genere è stata deliberata da una giunta di Fratelli d'Italia Lega e Forza Italia quando si vedono queste cose vanno semplicemente contestate non fare i giri di parole perché quelli sono i potenti di quel momento in quel territorio la verità prima la verità prima di tutto la verità altrimenti non siamo nulla siamo come dice Grillo posti ideologici con l'autodeterminazione ma che vale che esseri umani siamo Giovanni Fiori dice giustamente B105 Stelle hanno la stessa matrice Melania Simoni ci sono emissari dei poteri forti vogliono intercettare il marcontento Roberto Mura è possibile che solo il popolo la famiglia denuncia queste tenebre chiamandole con il loro nome purtroppo sì purtroppo sì ve lo devo dire avendovi letto anche le prime pagine di alcuni giornali oggi capite che la chiesa non ci fa una gran figura insomma davvero non ci fa una gran figura saluto Giovanni Albicini Filippo Conte Anna Scapin Alessandra Tumino scusate se mi sono fatto prendere la foca ma davvero è incredibile questi scelgano di fare questa mossa nel giorno in cui si dimostra che il Movimento 5 Stelle è decisivo per approvare una legge anticristiana e antiumana come la legge sul Biotestamento e sulla sostanziale introduzione dell'eutanasia in Italia sono davvero stupefatto anche per il timing l'ho scritto oggi nella presentazione in Snap e Vangelo anche il timing è stupefacente ma come si fa a farlo oggi questo tipo di movimento questo tipo di svilimento delle nostre ragioni 75% tre quarti degli argomenti ma come si fa nel giorno stesso in cui si dimostra che Grillo è determinante per l'approvazione di una legge profondamente anticristiana profondamente antiumana vi chiedo un mi piace un condividio a questa diretta di oggi in cui ho detto molto forse persino troppo ma andava detto andava detto amici miei perché questi sono i cardini di una battaglia politica che dobbiamo compiere che stiamo compiendo su tutto il territorio nazionale che stiamo compiendo con coraggio con il silenzio di avvenire con il silenzio dei media cattolici con il silenzio di Sat 2000 con i vescovi italiani che hanno timore di avvicinarsi al popolo della famiglia ma con tanti sacerdoti tanti fedeli tante parrocchie che poi ci ospitano ci danno coraggio ci danno sostegno ci danno anche consensi anche voti che costruiscono magari le liste del popolo della famiglia facciamolo su tutto il territorio nazionale l'unica salvezza alcuni dicono anche per la chiesa italiana anche per la chiesa italiana è che il popolo della famiglia si rafforzi sapeste quanti parrocci ci dicono se fosse già al 3-4% per noi sarebbe più facile sostenervi è questo il momento in cui è difficile sostenerci lo so ora che siamo nella fase nascente ma quando saremo al 3-4% vedrete affollarsi intorno a noi gli interessi di molti e magari qualcuno si libererà dalle catene quindi anche per questo dobbiamo rafforzare la nostra presenza sui territori attraverso queste elezioni amministrative per questo siamo così impegnati nelle amministrative che si svolgeranno l'11 giugno prossimo Prisca Vegni è appena arrivata ma ha già condiviso sulla fiducia grazie Prisca per la fiducia grazie a Bartolomeo Notarangelo che ha scritto a Tarquinio grazie a Rosa grazie a Pellegrino che dice i cattolici stanno i grillini stanno ai cattolici come il cacio sta ai peperoni bellissimo saluto la Poggi Luppi il nostro coordinamento editoriale con Francesca Centofanti saluto Ninna Rello Luigi Milanesi di tanti amici che stanno condividendo la diretta di oggi vi richiedo un mi piace e un condividi a questa diretta facciamo in modo che sia ascoltata da più persone possibili Giuseppe Focone dice che Galantino in una riunione di associazioni pro-life ci definì merce scaduta io penso che sia scaduta la sua fede probabilmente diciamo altrimenti non si spiegano alcune alcune cose Silvia Lodà dice giusto per arrivare al 3-4% ci vogliono consensi quindi coraggio e votate pdf saluto Angelica Bosio ciao tesoro Giovanni Albicini prima o poi la verità trionferà mi raccomando un mi piace un condividi alla diretta di oggi e adesso tutti sul territorio a sostenere il popolo della famiglia contattate Maria Verita Boddi Maria Verita Boddi per chi fosse disponibile a Padova o nel Padovano a sostenere la lista che stiamo costruendo a Padova è importante perché abbiamo pochi giorni per farla la potete contattare qui su Facebook Maria Verita Boddi per dare la vostra disponibilità anche solo a dare il nome per riempire la lista perché là servono altri 21 candidati per la lista di Padova dunque è importante dare disponibilità anche se siete di altri comuni semplicemente per riempire la lista date disponibilità a Maria Verita per riempire la lista di Padova ecco Massimiano Amato che saluto un abbraccio anche a Gianfranco Amato che ieri è stato in provincia di Venezia e ha riempito un altro teatro l'ennesimo del suo tour c'è anche Alba Chiara Cristiani che saluto con grande affetto e un grandissimo abbraccio saluto Simona Bartoli scusatemi Mimì Young ecco Danilo Bassan anche lui è di Padova quindi date una mano ecco potete contattare anche Danilo Bassan è molto importante avere più persone possibili anche di altri comuni anche di Catanzaro per capirci insomma che diano il loro nome per candidarsi anche semplicemente pro forma nella lista del popolo della famiglia a Padova Alessandra Mondelli intanto ci ricorda che a Borgo Manero dopo domani ci sarà Fabio Torriero a presentare il suo libro a Borgo Manero anche lì siamo candidati all'amministrazione comunale candidato sindaco Alberto Cerutti uno dei primissimi fondatori e dirigenti del popolo della famiglia a livello nazionale e dunque un grande e importante candidato sindaco Stefano Ziroldo saluto anche te tutti quelli che possono dare una mano e candidarsi a Padova anche senza essere padovani anche senza basta solo che firmino accettazioni di candidatura e inviano il loro certificato elettorale non c'è nessuna conseguenza niente di cui aver paura ma si aiuta la lista di Padova a costituirsi e a cominciare la raccolta firme che deve terminare entro il 10 maggio ricordiamocelo saluto Anna Scapin saluto insomma i tanti amici che si sono connessi oggi con Popolo Famiglia TV c'erano tante trasmissioni da seguire anche oggi grande radicamento sul territorio mi raccomando lavoriamo per rafforzare più possibile il voto al Popolo Famiglia e queste amministrative vedrete che dopo aver rafforzato i nostri consensi l'attenzione nei nostri confronti inevitabilmente crescerà anche per questo è fondamentale svolgere il lavoro che stiamo svolgendo proprio in questi minuti di comunicazione informazione di crescita per comunicare a più persone possibili quella che è l'attività del popolo della famiglia in questi giorni un mi piace e un condividi alla diretta se potete saluto anche Cristina Zaccanti dal Piemonte che è arrivata solo ora ma ascolterà indifferita saluto Paola Zen un mi piace e un condividi alla diretta per far ascoltare a più persone possibili cosa che abbiamo detto oggi saluto anche Gasperina Anna Ligiato Bartolomeo Notarangelo ricordiamoci che Galantino ha cercato di impedire il Family Day ricordiamoci ma non ce lo dimentichiamo stasera per il Pdf di Roma e tutti gli amici del Pdf dalle 21 alle 22 c'è Cronache della Capitale la trasmissione del Pdf Roma animata da Parisini La Rosa e altri amici Mauro Rotunno insomma stasera dalle 21 alle 22 ce lo ricorda Silvia Lodà saluto Mira D'Angelo il 4 maggio a Roma parte la scuola di formazione interna del popolo della famiglia sulla dottrina sociale della chiesa organizzata da Giuseppe Brienza chiunque può partecipare 4 maggio ecco arrivato Enzo Riccio che sta animando anche le nostre liste in campagna grazie ad Enzo per il suo lavoro sul territorio stiamo partendo anche in campagna e sabato sarò presente sul territorio anche per rafforzare il lavoro di Enzo Riccio di Raffaella Di Nolfi e di tutti gli amici campani per la presentazione delle nostre liste col simbolo del popolo della famiglia in campagna saluto Francesca Patuzzi la bella Francesca Patuzzi saluto Rosi Blu c'è anche Giuseppe D'Aria mi ricordano nella team di Cronache della Capitale c'è Ninnarello da salutare sempre protagonista aspettiamo altri suoi articoli interessanti come quello che ieri ha pubblicato il quotidiano sulla libertà scolastica saluto Carla Stefanini che dice se Dio è con noi chi sarà conto di noi saluto Gerardo Astore la scuola della dottoria sociale cristiana no non si fa online si fa in una parrocchia romana senti Giuseppe Brienza qui su Facebook noto come Joseph Bri per avere informazioni saluto saluto Rossella Paone saluto Italo Benati grazie a tutti davvero un mi piace un condividi alla diretta per far arrivare il nostro messaggio più in là possibile Barbara Pudignani dice tutti possono partecipare alla scuola di formazione interna si Barbara possono partecipare tutti con le modalità che ti spiegherà Giuseppe Brienza ricordo Joseph Bri qui su Facebook tutti possono partecipare cominciamo il 4 maggio e la conversazione la prima conversazione la prima lezione diciamo così sarà tenuta proprio da me e poi da Giovanni Marco Tuglio ecco Chiara Cominci dice Silvano Di Mari a Treviso non in tv perfetto è a Treviso saluto Giovanni Fiori Giulia Viganori ci si farà una scuola anche a Milano faremo corsi di formazione sì in tutta Italia ovviamente dopo la fase della campagna elettorale diciamo a partire da settembre vi saluto vi ringrazio per la diretta di oggi da Maria Di Nolfi una buona giornata a tutti un mi piace un condividi prima che ci salutiamo in maniera che si possa avere la massima diffusione della puntata di oggi di Stampe Vangelo da Maria Di Nolfi una buona giornata a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.